Salve a tutti ragazzi, bentornati su... Questa è un server 2 con Overwatch che ci sta piacendo e non poco. Esatto. Allora, abbiamo tanti cecchini, non abbiamo un eroe tank. Però sti cazzi, tanto dobbiamo attaccare, nella prima parte si può fare, si può fare in tranquillità. Nella seconda parte non tanto, ma poi vediamo insomma. Ok, noi vi ricordiamo che al momento Redez sembra aver trovato il suo personaggio preferito nella cecchina. Sì, guardate qui. È sempre il culo, guardate il culo, che è il motivo per cui Redez sceglie la cecchina. Allora, io posso teletrasportarmi, ve l'abbiamo già fatto vedere, e poi posso sparare questo ragnetto. Guarda quello dove sta. Ah, guarda, guarda, gli puoi fare i segnali di... Ah, Emily! C'è Emily! Stanno venendo? Guarda, sul tasto del mouse c'è Emily! Ah, sì, sì. Non ho mai usato. Questo entra dentro. È meglio che tenevano. Io posso salutarlo. Ci hanno ucciso! Ah, l'ho quasi ammazzato, cazzo. Ah, con la... come si chiama? Con la C puoi fare i saluti o i gesti. Sì, sì. Qualcuno sta per essere schiacciato? Sì, bravo che muori. Bello quanto muori bene, ciccio! Ma dobbiamo attaccarlo, questo? Che dobbiamo fare? O dobbiamo scortarlo? Attacca? Penso che dovremmo scortarlo. È la modalità con i carrelli di Team Fortress, praticamente. Ma si è scritto attacca. Attento. Vieni, esci fuori di qui, bastardo. Oh, no, ti ha schiacciato. Come ti ha schiacciato? Sì. No, mi hanno schiacciato. No, madonna, questo col martello di merda. Mi hanno fatto malissimo. Adesso dovreste poter vedere tutti quanti. Sì, infatti vedo tutto. Molto utile. L'hai fatto tu? Sì. Molto utile, non poco. Molto. Buono. Così, ecco, è finito. Quanto dura? Dieci secondi? Dieci secondi, giù di lì. Quando ti prende il tank, sei bello che fottuto, eh. Sì. Invece la E è un segnalatore, credo. Sì, bella. L'ho preso. Madonna, ragazzi, come vanno giù. Forse stare qui dentro non mi aiuterà, ma... Porco giù da... Quello non lo diri giù, eh. Cioè, quello ci vuole un quarto d'ora per tirarlo giù. No, no, non ti avvicina che ti schiaccia. L'ho segato, tranquillo. L'avevo gente bollita da sopra. Allora, che facciamo? No, no. Ma perché non mi ha sparato? Porco giù, te l'ho sbagliato tasto. Oh, merda. Sono un coglione, però, eh. Sono morto tre volte e mi ho fatto sei eliminazioni. Il punto è che non ho capito che cazzo dobbiamo fare con quel carrello. Eh, non lo so, a noi c'è scritto attacca. Eh, ma lo dobbiamo sparargli? O serve un tank che lo rompa? Vediamo un po' se si riaffaccia quella prostituta. Minchia, che botta! Che cosa? Occhio che ho attivato la... No, porca troia, la torretta maledetta. Cioè, ho fatto una roba che faceva malissimo. Con la Q. Vieni qua, vieni. Pesso di merda. Forse l'ultima cosa che faccio, ti spacco l'anima. Ah, dove vai, ah? Come scappi. Occhio, occhio alla tua destra, là dentro. No, c'ho visto il cecchino. No! Troppa gente, cazzo, tutti insieme, come alle poste. Devo recuperare un po' di uccisioni. Sto facendo schifo. Sì! Guarda, devo dire, tanto mi fa cagare Team Fortress come gioco, tanto mi piace questo. Però è praticamente la stessa cosa. Ah, ma guarda, ce n'erano troppi. Ferma il carico, vedi? Dobbiamo fermarlo il carico. Ah no, scorta il carico. No, dobbiamo scortare il carico. Che c'è? Abbiamo preso il checkpoint, quindi si va avanti. Reviving, ma non ho fatto l'ora in vita. Vediamo un po' se ti prendo da qua. Sì! Buono! Guarda i cecchini su, guarda i cecchini su. Sì, l'ho presa. Ottimo! Ok, ok, supportiamo il carico. Occhio, occhio, grosso, grosso, grosso. L'ho visto. Dai, muori, 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 muori! Dai, dai, devi schiacciare il 200. Ah, la tua porca miseria, che non muori. Forse l'ultima cosa che faccio, t'ammazzo. Dai, che non schiatta, Madonna. Madonna, lezzo! Sì, ho preso. Dai, 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 dai. No, 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 grosso, 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 grosso. C'ho voglia di venirti a tritare. Sì, vai, Madonna, il dolore. Dai, dai, dobbiamo ancora scortarlo. 37 secondi. Se non ce la facciamo. No! Sì, ma non ho rimesso. No! Oh, merda! No! Cacchio. Cacchio, cacchio, cacchio. Ce la facciamo? Forte al prossimo. Quaia, BB, ci siamo quasi! Ci siamo quasi! Tempo supplementare. Perché c'è il tempo supplementare? Non lo so. Dai, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ma è stata veramente tosta questa, eh. Madonna. Perché c'è un tempo supplementare? Eh, perché stavamo molto vicini, credo. Ah. Comunque ho fatto 15 uccisioni. Cioè, un... Se fa uno sfacelo. Io sto cercando... Oh, l'ho ammazzato quel bastardo. Sto cazzo di drago. Non lo farai capire. Non lo so inteso. Buono così, buono così. No! Cecchina di merda! Dove sta? Eh, sta sulla testa, su una scalinata. Zoccola! Zoccola! Mi piace. Zoccola! Ma è stata sparata un sacco di tempo. Ci ho caricato il... La mina, qui. Guarda che zoccola! Potrei... Potrei provare a... A segare. Vai, è mo... Parto! Da 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 C***o ma mazza Praticamente io con le frecce ho ... Ciò la Fisica non posso tirare dritto per dritto come un cecchino Nooo mi hanno ammazzato C'è Quell'altra che ti rivive, volevo capirmi come funzionasse Sì, bella 10 secondi, mi sa che non ce la facciamo Su giro Sì Vieni fuori, vieni, esci da lì Ce l'ho del tempo supplementare Presa No, l'ho perso Bastard Porco Giuda però Eh, non è stato facile Non è stato assolutamente facile Vediamo stazione Vondalb Eh, era un tank Eh, ma questo faceva Normale che facesse Un macello Bravo, bravo Beh, vabbè, io voterei il tank Ha fatto veramente un bordello E ci vediamo noi alla prossima Ciao